Quelle che vedete sono le condizioni del secondo tratto della pista ciclabile dello stagnone di marsala allestita da poco più di un anno per la verità ancora incompleta e già evidenzi uno stato indecoroso soprattutto se si pensa che è stata allestita attraverso denaro pubblico proveniente da fondi europei di chi sono le responsabilità l'amministrazione comunale ha il dovere di intervenire fare chiarezza e provvedere alla manutenzione o rivalersi eventualmente verso i responsabili Grazie a tutti